Devi sistemare la tua casa. Ci pensiamo noi. Fratelli Sebastinelli. Solo soluzioni. L'ingresso di aria fredda di provenienza atlantica porterà precipitazioni consistenti, in particolare nel settore centro-settentrionale della regione, con rovesci localmente intensi. Il territorio in cui ricade il comune di Senigallia sarà interessato da piogge moderate per tutta la giornata. In considerazione dell'alerta meteo, il sindaco di Senigallia Massimo Livetti ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado del comune. Chiuse anche le strutture per l'infanzia 0-3 anni, sia comunali che private, i centri diurni per disabili, il centro diurno Alzheimer e il centro pomeridiano Il Germoglio. Chiusi gli impianti sportivi, sia comunali che privati, i centri culturali e le biblioteche. Sono stati sospesi anche gli eventi natalizi previsti per oggi. Sono chiuse le scuole anche in quasi tutti i comuni dell'entroterra. I sindaci che hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole sono quelli di Ostra, Ostravetere, Arcevia, Serra dei Conti, Corinaldo e Trecastelli. Ed ora la cronaca. Un quarantenne di Trecastelli è stato denunciato per furto in debito utilizzo di carte di credito. L'uomo si è introdotto all'ospedale di Senigallia rubando il portafogli di una paziente, utilizzando poi la carta di credito per una spesa di 800 euro. Ad accorgersi del furto è stata la donna che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Il Covid aumentano i ricoveri negli ospedali marchigiani nell'ultima settimana. In sette giorni i nuovi positivi sono stati 7.070 con un lieve calo rispetto alla settimana precedente. Preoccupano però i ricoveri ordinari che hanno superato la soglia di allerta. Sono 242 più 50 in una settimana di cui sei in terapia intensiva. Nell'ultima settimana si sono verificati anche 13 decessi. Salgono così a 4.226 i morti dall'inizio della pandemia. Il calcio, terz'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie D che vede la vigora Senigalli impegnata in una nuova trasferta in Abruzzo. Stavolta l'avversario di turno per il rosso-blu secondi in classifica è l'Avezzano, fischio d'inizio alle 14.30. Come sempre per questi altri aggiornamenti, vivere senigallia.it che vede l'avversario di Serie D